Tragedia all'alba questa mattina a Eboli dove un operaio 62enne di Bellizzi ha perso la vita nell'azienda agricola presso cui lavorava in località Acqua dei Pioppi. L'uomo originario di Bellizzi è rimasto schiacciato dal materiale che stava scaricando da un camion. La fune che tratteneva un quintale di rotoli di pellicola ha ceduto travolgendolo e per lui non c'è stato niente da fare. Altri dipendenti della ditta che erano con lui avrebbero provato a liberarlo da sotto i rotoli ma quando l'operazione di soccorso si è conclusa il collega era già morto. Sul decesso indagano i carabinieri della locale compagnia diretta dal capitano Luca Geminale. La salma è stata sequestrata e ora si trova presso l'ospedale di Eboli dove è giunto il PM Cosentino e la procura di Salerno che coordina le attività. Gli investigatori hanno sequestrato il camion e un trattore che si trovavano nella zona dell'incidente. Al momento non ci sono contestazioni penali a danno di terzi.